Infatti, intanto dunque, guardo che ci sono 131 partecipanti e questo è un grandissimo risultato, insomma. Allora intanto mi presento, io sono Michela Milano, sono la direttrice del centro interdipartimentale sull'intelligente artificiale, Human Center Artificial Intelligence e la dicitura. Tanto vorrei darvi il benvenuto a questo primo evento che abbiamo fattezzato aperitivo con l'intelligente artificiale, chiaramente l'aperitivo dovete procurarvelo da soli perché purtroppo non possiamo farlo in presenza. Allora questo evento è stato organizzato da Riccardo Rovatti, fatemi ringraziare Riccardo tantissimo perché ha avuto l'idea e ha anche fatto partire tutto il processo, che spero tra l'altro appunto si ripeta e questo sia il primo evento di una lunga serie. Riccardo è un professore del Dipartimento del DEI ed è anche responsabile dell'unità scientifica AI for Industry del centro. Se mi permettete, prima di lasciare la parola Riccardo perché introdurrà i relatori e vi darà anche un'idea di quello che ha un po' questo, lo spirito di questo evento e sperabilmente anche dei prossimi e introdurrà appunto gli speaker, i relatori, vi darà un attimo il focus sul topic di questo evento. Vi vorrei rubare proprio cinque minuti per una brevissima introduzione al centro. Volevamo fare eventi di lancio e di inaugurazione, chiaramente è semplicemente arrivata una pandemia, quindi speriamo che la situazione può solo che migliorare. Il centro è stato creato il primo gennaio di quest'anno e i dipartimenti fondatori erano 26 su 33 dell'Università di Bologna, quindi veramente un numero veramente importante. I dipartimenti oggi sono diventati 27 perché è entrato anche il dipartimento di psicologia e sostanzialmente il centro è nato dalla consapevolezza che nella maggioranza di dipartimenti nel nostro ateneo si sviluppano la ricerca sull'intelligenza artificiale oppure si usa l'intelligenza artificiale come una delle tecnologie abilitanti per una serie di applicazioni che vanno veramente dal climate change alla salute, alla mobilità, all'energia, all'industria, la performance computing e ovviamente diciamo ci sono moltissimi aspetti, quindi abbiamo cercato di costruire questo centro proprio con l'idea di costruire una massa critica di ricercatori che potessero lavorare insieme e di diciamo in qualche modo sostenere un approccio veramente interdisciplinare e noi come Università di Bologna come potete immaginarvi siamo in una posizione assolutamente privilegiata per fare questo perché siamo un'università generalista. Vi dico due parole sull'organizzazione del centro, io sono direttrice, vice direttrice del centro e poi il centro è organizzato in otto unità scientifiche che vi descrivo brevemente, anzi cito semplicemente. La prima è quella di foundations, intelligenza artificiale quindi fondamenti e il responsabile scientifico dell'unità è Maurizio Gabrielli, poi abbiamo intelligenza artificiale and art science quindi la parte fisica, la matematica e i legami che questa ha con l'intelligenza artificiale, la parte AI for industry, quindi quella parte industriale e Riccardo Rovatti appunto è il referente scientifico, poi abbiamo la connessione tra intelligenza artificiale e high performance computing, il professor Benini è il responsabile scientifico, poi abbiamo la parte di AI for law and governance, Giovanni Sartor è il responsabile scientifico, poi c'è la parte sulla salute e il benessere, health and well being, c'è Marco Sartor che è appunto il responsabile scientifico di questa parte, poi abbiamo humanistic AI che invece riguarda più la parte diciamo social science, humanities, quindi la parte più legata alle scienze umane e la parte invece su education e su humanistic AI guidata da Aldo Dangemi e invece le connessioni tra education e intelligenza artificiale guidate da Chiara Pancirovi. Quindi come vedete il centro si occupa di un numero molto elevato e molto ricco di interconnessioni tra l'intelligenza artificiale e vari domini, tenete conto che abbiamo guardato oggi nella mailing list, ci sono 480 ricercatori e docenti che afferiscono a questo centro, quindi diciamo che sono tante queste linee di ricerca ma c'è anche tantissima, c'è una massa critica importante di persone, quindi io spero che appunto possiamo avere molto rapidamente la possibilità di iniziare a collaborare effettivamente. Ovviamente avevamo grandi progetti per l'inizio dell'attività con workshop conoscitivi su ciascuna delle aree tematiche ma ovviamente data la situazione abbiamo dovuto in qualche modo ridimensionare un po' le nostre attività, però li organizzeremo in remoto o diciamo in presenza appena possibile perché la prima passo, il primo passo per far partire il centro è conoscersi. Nel frattempo diciamo abbiamo fatto comunque una serie di attività per iniziare a far partire il tutto, il sito del centro è da oggi online in una versione minimale, però almeno siamo online e quindi in qualche modo ci sono le informazioni di base sul centro, stiamo facendo un censimento dei progetti, delle pubblicazioni cercando di infastidirvi il meno possibile, interagendo quindi il più possibile con gli uffici e diciamo tramite mezzi automatici per fare questi censimenti e poi vi presenteremo i risultati. Abbiamo già fatto alcuni incontri con aziende per definire partnership strategiche e collaborazioni e poi stiamo collaborando, stiamo cercando di costruire un progetto anche per l'emergenza Covid, insomma in qualche modo che utilizzi l'intelligenza artificiale in questo contesto perché chiaramente dove ci sono dei dati l'intelligenza artificiale può dare il suo contributo. Da oggi ovviamente iniziamo con questi Wednesdays, quindi questi incontri di mercoledì che sperabilmente organizzeremo ogni due settimane, quindi vi ringrazio di nuovo per la partecipazione, vi ho già rubato troppo tempo, lascio la parola a Riccardo che vi introdurrà l'argomento di questo evento e presenterà gli speaker. Intanto grazie ancora tantissimo Riccardo e grazie mille a te la parola. Grazie Michele, allora io vi condivido una presentazione veramente minimale. Voi sapete che questo è il tema del nostro incontro di oggi e prima di andare a vedere le quattro slide che ho preparato vi ricordo che l'incontro è vero, ha degli speaker ma l'idea fondamentale è che gli speaker ci servano sicuramente per magari imparare o almeno essere esposti a qualche argomento che non avevamo mai approfondito, ma che poi ci servano per, se possibile, discorrere tra di noi, farci domande, raccontarci qualche esperienza e così via. Il clima quindi io spero sia il più informale possibile, vedo che siamo in tanti e cercheremo di automoderarci il meglio possibile, però spero che qualcuno oltre gli speaker poi ci racconti qualcosa o abbia qualche dubbio o qualche interesse da esporre. La ragione per cui il primo evento abbiamo pensato di incentrarlo sui vari tipi di machine learning la riassumerei veramente solo in due slide. Allora la prima cosa è che visto che dobbiamo essere il più generalisti possibile io prenderò, non gli speaker dopo di me che sono gli veri esperti, ma io prenderò le mie informazioni da Wikipedia, che sarà anche una collezione di ignoranza organizzata, ma è sempre molto interessante come primo approccio. Questo è quello che si trova nel machine learning su Wikipedia e ci dice che ha a che fare sul come i computer riescono a capire come fare dei compiti, come eseguire dei compiti senza che nessuno li programmi esplicitamente. Questa dicitura estremamente generale si concretizza, se voi sempre andate su Wikipedia, in un certo numero di approcci differenti che mi sono preso la briga di ricopiare qua. E ognuno dei nomi che vedete, ce ne sono alcuni di più specifici, altri di meno specifici, cioè non è una tassonomia ben fatta dal punto di vista scientifico, ma serve semplicemente per darci un'idea di che cosa stiamo parlando, il machine learning, cioè le tecniche che permettono a una macchina di capire cosa deve fare senza che nessuno glielo dica esplicitamente, sono almeno 61, non neanche 50 sfumature D, sono almeno 61 sfumature D. E quindi a questo punto, visto che noi siamo tutti degli studiosi, la cosa più ovvia è che dedichiamo questo seminario a studiarle approfonditamente tutte a 61, per cui cominceremo in ordine alfabetico dall'analytical learning e finiremo con l'ultima. Sarà una cosa che ovviamente faremo solo in un'ora, quindi andremo molto veloce. Ci aiuterà moltissimo, ovviamente, il fatto che sia praticamente assodato che tutte queste tecniche rientrano a seconda di una classificazione che poi vi illustreranno sicuramente meglio i relatori in tre categorie, che sono appunto le tre categorie che abbiamo evidenziato nel titolo, quindi di apprendimento supervisionato, quello per rinforzo, per segnali di rinforzo e quello non supervisionato. Hanno tutte e tre queste tecniche, ovviamente delle caratteristiche differenti, ma anche dei profili di applicabilità differenti e ovviamente, come potete aspettarvi, non sono in un'applicazione reale da usare esclusivamente, cioè scusate, da usare facendo a priori una scelta ed escludendo le altre tecniche, perché le applicazioni là fuori richiedono che noi buttiamo addosso a loro tutto quello che abbiamo e tutto quello che abbiamo è appunto questo enorme panorama. Detto questo, ci parleranno di queste tre grandi classi di approcci al machine learning, tre persone che sono tre persone molto giovani e molto competenti, abbiamo Alessio Bonfietti, che peraltro non è solo un primo in ordine alfabetico, penso che sarà anche quello che prenderà la parola per primo, che attualmente lavora in Minded Solution, che è uno spin-off dell'Università di Bologna, Michele Lombardi e Samuele Salti, che invece sono tuttora ancora strutturati all'Università di Bologna. Io non ho molto altro da dire, perché è molto più interessante quello che devono dire loro e quindi io spero che questa cosa risulti per voi sicuramente informativa, ma anche un po' divertente, perché altrimenti non c'è lo stimolo a tornare a fare una cosa di questo genere ogni due settimane. Gli argomenti delle prossime settimane, delle prossime eventi ovviamente saranno diversi, ma il taglio, se ci riesce, dovrebbe rimanere sempre lo stesso. Quindi sufficientemente generale per interessare un po' tutti, perché abbiamo competenze estremamente vaste, ma anche in grado sperabilmente di stimolare curiosità e perché no, magari anche collaborazione tra persone che prima non si conoscevano e invece si sono conosciute in questo ambito. Quindi io finisco la mia presentazione e chiederei ad Alessio se ho capito bene, è vero? Cominci tu. Sì, sì, inizio io. Perfetto. Allora, quindi puoi... Mi sentite? Io sì. Perfetto. Buonasera a tutti, sono Alessio Bonfietti e come diceva Riccardo, grazie SuperMindedSolution che è uno spin-off dell'Università di Bologna. Io ho fatto un percorso di ricerca con la professoressa Michela Milano e con Michele Lombardi, mi ha lavorato dieci anni assieme, poi tre anni fa è venuta quest'idea di creare uno spin-off dell'Università di Bologna come, diciamo, braccio armato per andare a portare l'AI e la ricerca che abbiamo fatto nel mondo dell'industria. Per cui attualmente ricopro la carica di amministratore delegato e questa sera sono qui per raccontarvi un po' della parte di Supervised, quindi provo a condividere lo schermo, però forse è meglio se disattivo la videocamera che altrimenti la connessione, mi sa che... Ditemi quando ci vedete. Perfetto, sì. Benissimo. Allora, riprendo leggermente un... Partiamo un attimo da lontano. Io volevo cercare di fare un attimo un overview di che cos'è l'intelligenza artificiale dal punto di vista del machine learning per arrivare subito a parlare di machine learning supervisionato. Quindi partiamo dal concetto di learning. Queste sono due definizioni che ci piacciono molto, dove imparare effettivamente è costruire o modificare una rappresentazione di ciò che è venuto dalle tue esperienze. Imparare significa registrare, cioè effettuare cambiamenti in un sistema che ti permetta di funzionare meglio la seconda volta che ripeti lo stesso compito, oppure un compito che poi è tratto dalla stessa popolazione. Quindi si tratta di imparare nel tempo. Quindi il punto è che in un sistema che impara c'è, può esserci, un adattamento del comportamento nel tempo e fondamentalmente questa cosa può essere la risposta di un organismo biologico nel suo ambiente naturale, quando un bambino impara a camminare, oppure di un sistema artificiale che vive in un altro sistema artificiale che viene progettato apposta per apprendere alcuni comportamenti che sono desiderati. E cadiamo proprio in questo caso quando andiamo a parlare di intelligenza artificiale. Quindi ci va benissimo parlare di adattamento nel tempo, ma come si può quantificare questo adattamento nel tempo? Alcuni tipi di problemi ci danno una chiara nozione di che cos'è fondamentalmente l'apprendimento. Cioè facciamo un esempio, in un sistema in cui dobbiamo riconoscere dal punto di vista ottico dei caratteri. Abbiamo una sorta di tasso di errore del riconoscimento, che potrebbe essere ad esempio il rapporto tra i caratteri riconosciuti in modo scorretto e il carattere riconosciuto in modo corretto. Questo potrebbe essere, o il numero totale dei caratteri. Quindi questo potrebbe essere una sorta di errore di riconoscimento. E questa misura fondamentalmente è una misura numerica che ci definisce una sorta di abilità per andare a risolvere il problema. Quindi una misura che possiamo chiamare una funzione oggettiva che codifica il nostro obiettivo. Il nostro obiettivo è molto importante perché noi fondamentalmente stiamo parlando di osservare il mondo e cercare di capire come il mondo si può collegare a dei particolari obiettivi. Quindi questa è una frase che mi piace molto perché noi siamo convinti che ci sia un modo... Alessio non abbiamo più... dei nostri obiettivi. No, Alessio ti abbiamo perso. Mi sentite? Mi sentite? Per un attimo è scomparso. Per un attimo è scomparso. Per un attimo è scomparso. come possiamo quantificarlo? Esatto. Perfetto. Allora dicevo che va benissimo parlare di adattamento nel tempo ma come facciamo a quantificare questo adattamento? Vabbè prima avevo fatto un esempio sul riconoscimento ottico dei caratteri. Possiamo fare anche un altro esempio sugli scacchi. Dunque una persona che gioca a scacchi possiamo definire che una persona è più o meno brava a giocare a scacchi basandoci su quante partite ha vinto e quante partite non ha vinto. Quindi quello che comunque ci serve è una misura numerica quantitativa che ci vada a descrivere l'abilità di questo sistema, l'abilità di quanto è riuscito ad imparare. E tutto questo si deve confrontare con un obiettivo. L'obiettivo è la meta del nostro processo di apprendimento. Quindi noi siamo convinti che esista una funzione che collega quello che noi stiamo osservando con il nostro obiettivo, con quello che vogliamo apprendere. Quindi fondamentalmente nel nostro mondo noi possiamo dividere quello che osserviamo da quello che, quindi le nostre osservazioni, da degli eventi o dei fatti che sono collegati a queste osservazioni. Quello che noi sappiamo è che esistono queste osservazioni, quell'altro che noi sappiamo è che esistono questi eventi, quello che non riusciamo a capire perché non è semplice, è come collegare queste osservazioni e questi eventi. Ed è qui che ci aiuta il machine learning. Quindi fondamentalmente diciamo che il machine learning, e adesso è l'unica notazione scientifica che utilizzerò in queste slide, quasi l'unica, ci permette di imparare una funzione f che ci permette di collegare le nostre osservazioni con degli eventi e dei fatti che sono avvenuti. Quindi quello che noi dobbiamo imparare con il machine learning è la funzione f, perché noi da questo punto di vista possiamo osservare lo stato e possiamo sapere a che evento è collegato. Quindi noi andiamo a imparare, data una serie di osservazioni che chiamiamo x e data una serie di eventi o di fatti che chiamiamo y, vogliamo imparare quel legame nascosto che mi fa sì che, data un'osservazione, io possa dire che l'evento collegato è y. Quindi il machine learning si tratta di imparare questa funzione f. Ora, in questo caso parliamo di machine learning supervisionato perché abbiamo questa y e quindi questa y fa sì che io riesca a collegare le mie x alle mie y. Quando poi dopo, nel prossimo intervento si parlerà di non supervisionato, vedrete che questa y non esiste più e quindi io non conosco né la mia f né la mia y. E poi le cose si complicano, chiaramente, perché io conosco solo le osservazioni. Quindi, alla fine, che cosa succede? Una volta che ho addestrato il mio algoritmo di intelligenza artificiale, ho trovato questa f, a questo punto ogni nuova osservazione x primo io lo posso utilizzare posso utilizzare la mia f per calcolarmi la mia y primo. Che cos'è la y primo? È la mia predizione. Che evento è collegato? Che evento sarà collegato alla mia nuova osservazione x? E come stima dell'accuratezza potrei andare a valutare quello che è successo nella realtà, quindi il mio y vero, rispetto al mio y predetto, cioè quello che io ho predetto. A questo punto gli algoritmi supervisionati si classificano in due modi, si strutturano in due modi, gli algoritmi di classificazione e quelli di regressione. Gli algoritmi di classificazione vanno a identificare, ad etichettare le mie osservazioni in diversi classi. Quindi io vado a dire, ok, ho i pallini rossi, ho i pallini verdi, cerca di capire qual è quella funzione nascosta che mi permette di individuare, dato un nuovo pallino, se questo pallino è rosso o è verde. Mentre invece gli algoritmi di regressione vanno effettivamente a fare la predizione di un valore, di un numero, quindi possono essere utilizzati per andare a fare il forecast di valori numerici, di serie temporali e quant'altro. Adesso faccio un veloce esempio di algoritmi di classificazione e di regressione. Quindi supponiamo di avere questo esempio, questo è un esempio classico classico. A me piace andare a giocare a tennis e voglio far imparare all'algoritmo di machine learning le decisioni, le mie decisioni, sul fatto di andare o no a giocare a tennis. E il mio andare o no a giocare a tennis lo definisco come classe. Classe positiva se io vado a giocare a tennis, classe negativa se io non voglio andare a giocare a tennis. Quindi ogni riga di questa tabella è una mia osservazione. Quindi il giorno 1, come era il tempo. C'era il sole, la temperatura era 75 gradi Fahrenheit, l'umidità era 70% e c'era il vento. Ci sono andato? Sì, ci sono andato. E così io ho una serie di osservazioni e di fianco a ogni osservazione ho la mia etichetta che mi descrive la mia classe che voglio andare a collegare alla mia osservazione. Una volta che ho collezionato sufficienti dati posso applicare un algoritmo che mi addestra a un modello di machine learning che mi permette di andare a dire ok oggi è un nuovo giorno, c'è il sole, c'è questa umidità, c'è questa temperatura e non c'è vento. Che cosa andrò a fare? Andrò o no a giocare a tennis? Uno degli algoritmi più usati in machine learning è l'algoritmo che deriva dagli alberi decisionali per cui abbiamo applicato un bellissimo algoritmo di alberi decisionali e questo è quello che è uscito. Fondamentalmente stiamo andando a definire tramite un albero di decisioni e stiamo andando a classificare gli stati che noi andiamo, quindi le nostre osservazioni, in modo tale da poter andare a dire seguendo ogni percorso all'interno di questo albero se io andrò o no a giocare a tennis. Quindi se c'è il sole e c'è un'umidità minore di 75% allora io ci vado, altrimenti se c'è un'umidità maggiore del 75% io non ci vado. Se non c'è bel tempo io ci vado comunque, non mi interessa nient'altro. Se invece piove allora devo distinguere se c'è vento o non c'è vento. Per cui la classificazione, come dicevo prima, mi etichetta le mie nuove osservazioni. Cosa differente, come dicevo, è la regressione. La regressione potrebbe essere usata per fare delle predizioni, ad esempio le predizioni sulle time series. Quindi io posso andare a dire che ho un sistema di produzione di energia, di rinnovabili, ad esempio un impianto fotovoltaico, e vorrei andare a fare il forecast della produzione del giorno dopo. Quindi che cosa mi serviranno? Mi serviranno i dati della serie storica, mi servirà magari l'irraggiamento solare della serie storica, mi servirà il meteo e quant'altro e magari anche la produzione dei giorni passati, e io tramite un algoritmo di intelligenza artificiale sono in grado di andare a stimare qual è la produzione al giorno T, data solo l'osservazione senza quindi poter avere un controllo diretto su quello che sta succedendo. Poi a posteriori potrò andare a verificare l'accuratezza, andando magari a calcolare la differenza che c'è tra quello predetto e quello che è successo nella realtà. Quindi questi sono un po' i due esempi per quanto riguarda gli algoritmi supervisionati. Adesso io non vorrei entrare troppo nel dettaglio tecnico, per cui io direi che chiudo qui e lascerei la parola all'unsupervised. Non so se le domande le vogliamo, magari le facciamo tutte alla fine. È una cosa che pensavo di non formalizzare, se per adesso non ce ne sono, passiamo. Il prossimo non so chi sarebbe, Michele o Samuele? Vado io? Vai! Vai pure! Ok, allora intanto accendo per un attimo la webcam prima di condividere il monitor, quindi buon pomeriggio, buonasera a tutti. Sono Samuele Salti e sono un ricercatore del Disi, come ha detto prima Riccardo, in particolare mi occupo di computer vision, quindi applico il machine learning, l'intelligenza artificiale all'analisi di immagini, video e tutto questo tipo di dati 3D, quindi mesh, nuvole di punti, c'è tutto questo mondo di questi tipi di segnali. Ok, adesso mi sa che anch'io per non sovraccaricare la rete mi nascondo e vado a condividere lo schermo. Ok, dovreste stare vedendo. Ritorno, vai qui qua. Perfetto, quindi, adesso ci ha appena introdotto il problema supervised, quando mi hanno detto tu parli dell'unsupervised, a me è venuto spontaneo, ovviamente. Il supervised ha il supervisore, ha il teacher e quindi da questo collegamento sono arrivato ai Pink Floyd e al teacher leaves the kid alone, quindi spero che se ci sono dei fan dei Pink Floyd che trovano questo blasfemo lo scrivono pure in chat e io sono assolutamente d'accordo con loro, ma avete ragione. Però, let's leave the eyes alone, quindi, cosa vuol dire? Vuol dire, abbiamo appena visto il problema supervised, quindi abbiamo un dataset che è supervisionato, qualcuno, tipicamente degli esseri umani, hanno fatto speso del tempo e delle energie per dirci che questo è un gatto, che questo è un gatto, che questo è un cane. Ovviamente qui il problema è il problema di business fondamentale di distinguere se l'immagine contiene un gatto o un cane, da cui dipende il futuro della manufattura in Italia, probabilmente, ma lo usiamo come esempio. E nel caso supervisionato abbiamo quindi le label, sappiamo che questo è un cane, scusate che questo è un gatto e sappiamo che questo è un cane. Però ci sono là fuori, su internet, una marea di dati che non riusciamo a sfruttare se ci limitiamo al nostro dataset supervisionato, quindi sono tutta una serie di foto di cani e gatti in cui noi non sappiamo, non facciamo lo sforzo di dire a chi userà questi dati che questo è un cane, che questo è un gatto, ma magari potremo comunque ricavarci qualcosa, utilizzarli per apprendere. Notate che ovviamente ci possono essere delle cose un po' strane quando si usano i dati unsupervised, per esempio questa immagine è l'immagine di un cane o di un gatto, boh, chi lo sa, però in generale ci aspettiamo che si stia lavorando sullo stesso problema, cioè anche se non abbiamo le label non è che per forza dobbiamo, non è che dobbiamo avere immagini che non c'entrano niente, no? Per esempio, tornando agli esempi che faceva prima Alessio, magari un'azienda ha collezionato per anni dati su parametri dei suoi macchinari, ma non si è mai messa lì poi a etichettare dicendo questi parametri hanno portato a un guasto della macchina e questi altri no, però tutti i dati sono dati di macchinari, sono temperature, pressioni di macchinari, quindi è ragionevole aspettarsi che il dominio sia noto. Quindi qui parliamo di cani e di gatti ma non abbiamo le etichette. Normalmente cosa si è fatto storicamente quando si hanno i dati non supervisionati? Si è affrontato dei problemi che cercano un po' di capire come sono messi questi dati nello spazio dei dati, lasciatemi dire così. Cioè si va per esempio a risolvere quello che si chiama il clustering, ovvero se in questo esempio, se io ho una serie di indicatori che mi dicono il PIL di un paese, la mortalità o l'aspettativa di vita, gli anni di scolarizzazione medi eccetera eccetera, quindi tutta una serie di indicatori, posso andare a vedere che queste cose correlano fra di loro, cioè a un basso PIL corrisponde a una bassa aspettativa di vita eccetera eccetera, quindi in qualche modo riconoscere che ci sono dei gruppi di paesi a cui poi posso dare il nome di paesi sviluppati in via di sviluppo e così via. E questa è una cosiddetta analisi esplorativa che si fa in maniera unsupervised, cioè io non so quali sono i paesi sviluppati in via di sviluppo ma riconosco che ci sono dei gruppi omogenei e li vado poi a dare un nome. Questo lo faccio quando studio un nuovo problema, un nuovo dataset. Notate, è la cosa importante che ci servirà, che questo spazio in cui i miei dati vivono, anche se l'ho disegnato qui in questa forma bidimensionale già si vede, è molto vuoto. Cioè i dati tendono, i dati veri, i dati reali, di qualunque forma essi siano, di qualunque natura essi siano, tendono a concentrarsi in alcuni punti dello spazio, di tutti i dati possibili. Devo dire questo in altri termini, molto improbabile che esista un paese che ha un basso PIL e un'alta aspettativa di vita. Quindi esistono, i dati si strutturano in qualche modo, i dati reali. E questo è un altro uso che quindi si fa poi dell'unsupervised learning, che è quello di trovarla questa struttura per semplificarla. Se io ho dei dati che si strutturano come questa elica, io ce li ho magari in uno spazio tridimensionale, ma in realtà i dati sono bidimensionali, perché questa elica la posso srotolare e ottenere questo spazio qua. E qual è il mio interesse nel fare questo? È più facile lavorare con dati che hanno meno dimensioni. Se io mi rendo conto che è qualcosa, che posso buttarne via di dimensioni, lo faccio molto volentieri perché mi rende la vita più semplice nel cercare di capire qualcosa di questi dati, ovvero di apprendere, di imparare. Cioè questo è un apprendimento automatico o umano, lo facciamo anche noi, no? Quando cerchiamo di ridurre il problema nei suoi minimi termini, quando cerchiamo di imparare qualcosa di nuovo. E qui è proprio la cosa su cui focalizzo questo mio piccolo intervento, cioè l'uso dei dati unlabeled, quindi senza supervisione, per semplificare la vita a chi apprende, quindi in particolare all'algoritmo di AI che apprende, quando risolvo un problema supervisionato. Questo è uno dei possibili usi dell'unsupervised learning, uno che in questo momento è molto attivo. Appunto, perché lo posso fare? Perché i dati senza supervisione mi dicono qualcosa? Perché se io ho un'immagine che è, non so se è un cane o un gatto, mi è utile? Perché come abbiamo appena detto, vale per tutti i tipi di dati, se io prendo dei dati casuali, genero a caso il valore di un pixel di ogni immagine, io non otterrò mai qualcosa di sensato. Potete andare a provare, qui ho messo il link di uno degli NMila tool che permettono di farlo online, non viene mai fuori l'immagine di un cane o l'immagine di un gatto tirando a caso il valore di ogni pixel. Così come, mettendo a caso in fila parole, non viene mai fuori, certamente non Shakespeare, ma nemmeno qualcosa di sensato. Questi due esempi in alto li ho generati con questo random text generator. Di sotto, invece, abbiamo delle frasi che hanno una struttura. Cosa ci dice questo? Ci dice che le immagini naturali, le frasi che hanno senso e tutti i dati reali occupano una piccolissima parte di tutto lo spazio di tutti i dati possibili, di tutte le immagini possibili. La maggior parte di queste non hanno senso e le ho rappresentate con questo pattern rumoroso. Ogni tanto, qua e là, in questo spazio di tutte le immagini possibili, ce n'è qualcuna che invece è un'immagine naturale, l'immagine di un tennista, l'immagine di una motocicletta, eccetera. Ma, principalmente, lo spazio dei dati è, passatemi questa espressione, vuoto di senso, se non in alcune sue piccole parti. Ecco, vedere i dati senza etichette serve proprio a capire quali parti dello spazio hanno senso. Detto in altri termini, immaginate che siete un alieno appena atterrato sulla Terra, non sapete niente di niente, quindi non sapete cosa può essere reale o cosa no, non sapete se il nostro mondo appare così, appare soltanto fatto da tennisti o ci sono anche i gatti e i cani. Vedere immagini di cani e di gatti senza sapere se quello è un cane o un gatto, vi aiuta a capire che esistono delle cose fatte come i cani e come i gatti. E, quindi, tutto questo lo sapete già senza bisogno di usare etichette. Perché lo volete sapere senza bisogno di usare etichette? Perché creare le etichette, creare le label, costa. Costa del lavoro, costa del tempo, costa dell'esperienza. Per dei problemi difficili bisogna saperlo fare. Non ci sono solo i cani e i gatti, ci sono appunto la manutenzione predittiva. Voglio sapere se questa macchina si romperà. Solo alcuni operai specializzati lo sanno fare, ma li voglio tenere sulle linee di produzione, non al computer a etichettare i dati. Quindi, per tutta questa serie di motivi, voglio usare tutti i dati senza etichetta che ho per cominciare a capire che i cani e i gatti si trovano su una manifold, come si dice in termine tecnico, quindi questa parte piccola dello spazio che ha senso, che siccome io parteggio per i gatti, ha la forma dello stregatto. Quindi, con i dati unsupervised posso capire che i dati stanno lì, e questo poi mi è utile perché se so che i dati stanno lì e ho cominciato a capire come sono fatti i cani e i gatti, è più semplice distinguere i cani e i gatti. So già che hanno gli occhi, il pelo, eccetera, eccetera. Ok, scusate, quando uso il learning senza supervisione, l'unsupervised learning per fare questo, per semplificare la vita a un compito supervised che faccio dopo, si parla di self-supervised learning. Quindi questo è un possibile tipo di unsupervised learning, che è quello in cui prima uso i dati non labellati per fare qualcosa che è un nome che mi piace, che è un task di pretesto, ok? Quindi non mi interessa, risolvo qualcosa di cui non mi interessa niente, ma nel fare questo comincio a capire come è fatto il mondo, cioè imparo la mia manifold stregatto. E poi, quando ho fatto questo con tantissimi dati non labell, che tanto ce ne sono quanti ne voglio, uso le mie preziosissime dati con etichetta per andare a risolvere il cosiddetto downstream task, quindi il problema che veramente mi interessa, distinguere i cani e i gatti, partendo però, trasferendo tutta quella conoscenza sul mondo che ho messo da parte, guardando i dati non labell, cioè il fatto che i cani e i gatti stanno sulla manifold dello stregatto. Ora, questo sappiamo che cos'è, distinguere i cani e i gatti, ma che cos'è questo? Questo è qualunque cosa che mi costringa, che costringa la mia rete, il mio modello di machine learning, qui per esempio è una rete neurale, a capire il mondo, e di cui io so, la cosa importante, generare le label automaticamente, cioè è ancora un problema supervisionato, come quello di cui ci ha parlato Alessio, ma le label le genero io automaticamente. E quindi qui, in realtà sto un po' barando, quindi qui ritorniamo nella classroom, tornando ai Pink Floyd, perché comunque le AI non le possiamo lasciare completamente da sole, in questo caso. Quindi in realtà stiamo usando un dataset che è complessivamente semi-supervised, cioè io sto usando anche una piccola parte di supervisione in una seconda fase, in una prima fase uso tutta la parte senza supervisione per imparare come sono fatti i cani e i gatti, e poi qua imparo a distinguerli, quindi il problema è semi-supervised, come si dice. Ok, ci sono n mila modi di usare, creare questi task pretesto, il più semplice è quello che si chiama degli cosiddetti auto-encoders, cioè dato per esempio un'immagine, ma un qualunque tipo di dato, il mio task è ricrearlo identico. Ora, questo sembra un task assolutamente senza senso, e lo sarebbe se non fosse che noi, quello che facciamo quando facciamo il task pretesto, è rendere la vita molto difficile alla nostra intelligenza artificiale. In particolare in questo caso... Almeno ti posso fermare solo un secondo, perché vedo in chat, hai una domanda. Ah, scusatemi, la sono aperta. Prova a dare un'occhiata. Scusatemi, torno su. Siamo proprio in rodaggio, per cui magari, ne so. No, ma in realtà ce l'ho aperta, ma ce l'avevo sollevata, cioè troppo in alto, e quindi non l'ho visto. Va bene. Di Alberto. Sì, sì, ma la prima rete serve per... Quindi la domanda è, la prima rete serve per creare una rappresentazione, oppure diventa l'input della seconda? No, è assolutamente una rete che crea una rappresentazione, cioè la stessa rete che io prendo e sposto poi di sotto. Però è una rete che non parte da... come l'alieno che arriva sulla Terra, da non avere idea di niente, ma è una rete che ha cominciato a capire che tutto questo non ha senso, e in realtà nemmeno questo per il nostro problema, che nel mondo che interessa a quella rete ci sono solo le immagini che stanno sullo stregatto. E quindi è una rete che parte molto avvantaggiata, perché non deve usare... Quando una rete non sa niente, mentre gli fornisco i dati con supervisione, in realtà della supervisione non se ne fa molto, perché è impegnata a capire come è fatto il mondo all'inizio. E quindi, sì, usa anche la supervisione, ma deve mettere insieme le informazioni sul fatto che il mondo è fatto in un certo modo. Così io parto avvantaggiato. Ecco, spero di aver risposto. Prego. Quindi, dicevo, stiamo barando, perché ci siamo anche noi nella classroom, un po' nascosti, ma ci siamo, i task pretesto, quindi quei task che risolvo non mi interessano, ma imparo come è fatto il mondo. Dicevo, ricostruisco l'input, cioè devo rifare questo 4, questo è un 4 fatto a mano, lo devo rifare identico, scritto a mano, lo devo rifare identico, sembrerebbe una banalità in cui non c'è bisogno di imparare niente del mondo, basta imparare a copiare pixel per pixel l'input sull'output. Io però gli rendo la vita difficile al mio modello, perché gli dico, sì, va bene, ma lo devi fare a partire da qualcosa di molto, molto piccolo, da tre numeri. Da tre numeri tu mi devi fare tutta l'immagine. Questa è la cosiddetta strozzatura dell'informazione, il bottleneck. Mettendo questa strozzatura in mezzo il compito diventa difficile, perché a questo punto la mia rete non può prendere dato per dato e copiarlo, ma è costretta a imparare a scrivere qua, per esempio, che ne so, che ci sono quattro, scusate che ci sono tre tratti con certe pendenze in questa immagine, quindi segnarsi qua il numero di tratti e le pendenze e solo da quelli di provare a rigenerarla l'immagine. Questo è un compito più difficile che costringe la rete a capire che ci sono i tratti, le pendenze, e quindi a farsi un'idea di come è fatto il mondo delle cifre scritte a mano, senza che nessuno gli abbia detto che quello è un 4. Poi si può rendere ancora più complicato, perché lo si può rendere noisy, quindi ricostruisci il 4 pulito a partire da un 4 danneggiato, ancora più complesso, ancora una ricostruzione, una struttura del mondo più ricca si viene appresa. Però gli autoencoder sono i primi task pretesto prodotti, ma non sono quelli buoni, diciamo così. Si è resi conto che si potrebbe, o meglio dire, ci vuole molto tempo a imparare una rappresentazione con gli autoencoder, quindi molti dati, molto tempo di addestramento. Invece c'è stato un filone, c'è un filone che è tuttora attivo, che è quello di dire, costringo la mia rete a capire molto di più, se io gli dico, guarda, questa è un pezzo della mia immagine, mi dici dove va quest'altra, capite che per fare questo lavoro, fra queste otto, dove la metto, dove è giusto che vada, per fare questo lavoro, la mia rete deve capire che questo è un gatto, che è un gatto a due orecchie, che un'orecchia appare come l'orecchia di sinistra, e una come l'orecchia di destra, e che questa sembra quella alla destra del gatto, quindi alla nostra sinistra, e allora forse va lì. C'è tantissima conoscenza del mondo, che la rete deve acquisire, per risolvere un task di cui a me non interessa niente, ma che la costringe a acquisirla. L'appetito, quando guardate questi esempi sotto, devo dire che a volte anche per me, ci metto anche un attimo, a capire, se questo è al centro, questo dove va, se questo è al centro, questo dove va, cioè non è un task semplice, quindi risolvere questo task, richiede alla rete di imparare molto, ma la supervisione per questo task è gratis, cioè io l'ho presa da un'immagine, in cui erano nella posizione giusta, quindi fantastico, infatti questa idea del self-supervised, mi piace molto, perché è un'idea semplice, ma non banale, che sono poi tipicamente quelle che, almeno nella mia esperienza, sono potenti. L'appetito viene mangiando, quindi poi posso dire di fare il gixo, cioè prendo l'immagine, la scompongo tutta, la mescolo, e poi l'algoritmo la deve rimettere in ordine, oppure deve dirmi di quanto ho ruotato un'immagine, tutte cose che non mi costano niente come supervisione, ma costringono la rete a capirci qualcosa nel mondo. A che punto siamo? Con questo tipo di rappresentazioni, stiamo chiudendo il gap, cioè c'è tantissima ricerca su questo, i metodi dello stato dell'arte si chiamano by contrastive learning, non stiamo a dire niente su questo, volevo stato segnalarvi che un algoritmo, le cui rappresentazioni sono completamente imparate in maniera unsupervised, con un costo di usare una rete che ha molti più parametri, quindi 400 milioni di parametri, rispetto a una rete supervised che ne ha solo 25 milioni, queste sono le frasi un po' strane che escono quando si parla di deep learning, solo 25 milioni di parametri sono pochi, se ne ho 400, però con un approccio completamente unsupervised ottengo performance comparabili. Chiudo con un punto di shameless advertising, ma non perché mi voglia fare pubblicità, ma per dire che queste cose noi le abbiamo usate. Avrei io una domanda, posso fartela? Sì, certo, ci mancherà. Quando hai fatto il confronto supervised, era ImageNet, quindi è tipo una AlexNet quella lì, una cosa di quel genere? Sì, questa è una ResNet. Ok, perfetto. Sì, non ho detto niente sul task, questo è un task di image classification, ma insomma non è importante, l'importante è che il messaggio chiave sono molto efficaci queste rappresentazioni. Il costo da 626-625 non è proprio irrilevante. Però c'è un vantaggio su questo, grazie perché mi sono scordato di dirlo, vero, ma perché? Perché mentre faccio la parte unsupervised io non so cosa voglio fare, quindi io metto un sacco di informazione nel mio modello che magari non serve per ImageNet, però è informazione sul mondo. Cosa vuol dire questo? Che queste rappresentazioni unsupervised hanno grandi capacità di generalizzare. Magari sono vicine qui su ImageNet, ma poi sono buone anche per semantic segmentation, per image captioning, per altre cose. Bellissimo. Quindi se poi volessi ridurre il task posso fare del pruning, posso toglierne dei pezzi, cose del genere? Sicuramente dato uno specifico task c'è tanta roba che avanza, sì. Ok, grazie. Invece un'altra cosa, quanto di etichettato li devi dare per poi riuscire ad avere un buon risultato finale? Perché immagino che per poter dare l'etichetta finale dovrai avere un filino di supervised. No, assolutamente. Torniamo indietro, non vorrei che ci fossi confusi. Non è completamente unsupervised, qui è prima unsupervised e poi è supervised. Sì, la domanda è quanto supervised l'hai dovuto fare per matchare i risultati della pura supervised? C'è un protocollo standard in cui si impara, cioè le feature non si cambiano più, quindi le rappresentazioni non sono cambiate dalla parte supervised, ok Michele? Quindi diciamo non c'è cheating da questo punto di vista, quindi si impara solo un ultimissimo classificatore, un ultimissimo rate, insomma rate layer, che fa classificazione. A quel punto le label sono, ci sono vari percentuali variabili, insieme a cui abbiamo usato il 10% delle label, o il 20 adesso non lo ricordo, però insomma se ne usa una certa parte che è definita dal protocollo, però questo è il protocollo di valutazione standard, tutti questi sotto sono altri metodi che seguono la stessa filosofia self-supervised, ok? E tra l'altro sono metodi, cioè non so, queste cose qui sono sei mesi fa, questo che vi sto facendo vedere è di marzo e guardate che tasso di crescita incredibile, quindi. Ho risposto Michele? Sì, ottimo, fichissimo. Ti interrompo perché hai un'altra domanda in chat. Scusatemi, Stefano Allegrezza, grazie, l'esempio mi ricorda molto i Capshka con le immagini che a volte compriano perché assolutamente è un essere umano oppure no? C'è un collegamento con l'AI? Diciamo che il collegamento è che le risposte dei Capshka vengono tipicamente da quello che io so, in alcuni casi vengono usate per addestrare l'AI. come si chiamano noisy label, cioè a volte sono sbagliate le nostre risposte, però in più di volte sono corrette e quindi sapendo che c'è una parte di tasso di errore a cui la rete deve essere robusta ci si può addestrare l'AI con il risultato che le persone forniscono cliccando. Questo è un po' il collegamento che vedo. Elisabetta chiede allora il primo addestramento può essere utilizzato più volte? Assolutamente sì perché è completamente generico, noi non abbiamo detto non è che è finalizzata un task per questo molti parametri però la rete ha imparato il mondo cioè ha imparato che i gatti hanno un'orecchio a destra e un'orecchio a sinistra e questo sembra un'orecchio di destra e va messo di là. L'informazione cioè è ovvio dopo che l'ho detto ma è un'informazione potentissima questo è quello che mi piace molto di questo tema quindi sì la risposta è sì perché poi c'è come diceva Michele c'è un piccolo strato alla fine servono le label cioè siamo barati semi-supervised questo no? Quindi alla fine ci sono le label però servono solo per un piccolissimo strato che si impara molto velocemente poi si può buttare via impararne un altro per fare altro Ok chiudo perché non vorrei mangiare tutto il tempo mi sembra che siamo alla fine siamo partiti molto puntuali ma siamo in ritardo quindi soltanto per dire che ovviamente queste tecniche le abbiamo usate nel laboratorio di computer vision in cui lavoro e per dare un esempio di un task reale in cui abbiamo visto che funzionano quindi questo è un diciamo un scenario diciamo da guida autonoma ok tipo guida autonoma quindi l'ingresso è un video di un'auto che va per la strada e in maniera completamente self-supervised con un'altra tecnica che noi abbiamo visto che si chiama proxy labels noi riusciamo a distillare scusate a imparare tutta una serie di algoritmi di reti neurali che risolvono tutta una serie di compiti quindi riescono a dire a che distanza si trova un punto rispetto all'auto in cui è montata la telecamera come sta cambiando l'immagine come sta evolvendo nel tempo questo è una cosa un po' tecnica che cosa sono quelle aree dell'immagine sono automobili scritte in blu sono strada sono vegetazione sono alberi sono cielo cosa si sta muovendo e riunendo tutte queste informazioni può dire quali oggetti sono i movimenti vicini che come capite è un'informazione molto importante per una guida autonoma ecco tutto questo è imparato in maniera self-supervised ora il risultato non è perfetto questa mappa di segmentazione semantica come si chiama non è ideale questa lette questa depth è un po' troppo smooth però insomma è fatto completamente senza label e questo lo trovo particolarmente significativo ho finito scusate se mi sono dilungato ma ci sono stato anche un po' di domande grazie Samuel ottimo penso che possiamo partire di che allora vado abilito un attimo la telecamera come gli altri ma poi la tolgo perché la connessione di casa non regge ciao a tutti sono Michele Lombardi sono del Disi sono un ricercatore faccio subito un disclaimer e cioè che vi parlerò di reinforcement learning ma reinforcement learning non è il mio campo principale di attività che invece è l'integrazione di metodi di apprendimento automatico con altri metodi di intelligenza artificiale basati su reasoning oppure su ottimizzazione combinatoria fine telecamera condividiamo lo schermo e where is that scusate un secondo facciamo che prima lo facciamo partire e poi lo condivido perfetto ok però voglio dare una breve introduzione a reinforcement learning ci sarà qualche affondino tecnico ma in generale ho cercato di metterle il meno possibile per farlo rimanere semplice prima di tutto giusto per contrastarlo con altri metodi di apprendimento se vogliamo dirlo in tre parole in inglese perlomeno l'apprendimento supervisionato è riguarda l'imparare da qualcun altro ok il bimbo qua se vi interessa il mio figlio l'apprendimento non supervisionato riguarda cercare di capire come è fatto il mondo osservando dei pattern capendo quali pattern tendono a ricorrere quali sono frequenti l'apprendimento con rinforzo se lo vediamo da questo punto di vista il supervised learning è tutto sull'imparare facendo bene che cosa ci si può fare ci sono adesso su questo campo qua le storie sono è uno di quelli che produce le storie di successo più sensazionali come vi dicevo non è il mio campo di esperienza però qualcuno di questi immagino che l'abbiate sentita per esempio imparare autonomamente a fare dei videogiochi hanno preso dei vecchi giochi di le Atari li ha impiazzato una telecamera davanti fondamentalmente e hanno addestrato un sistema che potesse giocare semplicemente guardando lo schermo guardando certe aree dello schermo in maniera autonoma guardando come evolvevano i punti recentemente tecniche di apprendimento con rinforzo sono state quelle che sono riuscite a superare il livello di prestazioni umano nel gioco di Go che storicamente è sempre stato uno delle noci più toste da rompere per i genitori artificiali perché richiede degli affondi delle capacità di guardare avanti molto più complesse molto più ampie rispetto agli scacchi per esempio più di recente sempre nel campo dei giochi l'apprendimento con rinforzo è stato applicato agli e-sports non so sono videogiochi competitivi e la cosa interessante è che sono in tempo reale e fatti a squadre quindi stavolta questo sistema non aveva il vantaggio dei turni che c'era invece nel Go non aveva il vantaggio di essere da solo che c'era invece nel primo sistema quello dell'Atari andava coordinato un insieme di elementi il che è ancora più complesso ci sono applicazioni di apprendimento con rinforzo in robotica ancora non sono hanno un livello di maturità inferiore se vogliamo rispetto a quello che abbiamo visto prima però ce ne sono e funzionano e ci sono cominciano ad esserci delle applicazioni anche nel contesto della guida automatica anche se come potete immaginare come spero capirete da questa presentazione prima di ammettere un apprendimento su rinforzo su guida automatica bisogna pensarci non una non due non tre ma una decina di volte come funziona l'apprendimento con rinforzo dal punto di vista se vogliamo un pochettino più formale non abbiamo un set di esempi come è invece il caso supervisionato e anche quello non supervisionato al posto dell'esempio abbiamo un ambiente sull'ambiente noi possiamo giocare possiamo farci della roba come mio figlio quando ci appinava con la pasta degli gnocchi possiamo farci delle azioni in particolare quando applichiamo un'azione all'ambiente lo stato dell'ambiente cambia la sua descrizione se volete e otteniamo una qualche ricompensa procediamo per tanti step in questo modo cercando di avere la ricompensa più alta possibile ovviamente il tipo di ricompensa che viene generata definisce l'obiettivo l'obiettivo può essere farli gnocchi come nel caso di mio figlio ancora siamo lontani per la cronaca oppure l'obiettivo può essere risolvere per esempio un problema decisionale come nel caso più tipico cosa vogliamo fare quando usiamo l'apprendimento con rinforzo vogliamo andare a ottenere una policy cioè una sorta di specifica del comportamento dell'agente in particolare una policy dato lo stato corrente deve specificare quale azione l'agente deve andare a fare se abbiamo una policy siamo in grado di dire come l'agente si deve comportare faccio un problema banalissimo proprio molto molto semplificato supponiamo di voler controllare il livello di un magazzino di cibo ok siamo un'azienda che produce del cibo ogni volta che diciamo di produciare produciamo un'unità di cibo io ho messo le miele produrre costa quindi ogni volta che produciamo spendiamo un dollaro un'unità di denaro il nostro magazzino al massimo tiene due unità di cibo se lo lasciamo lì per troppo tempo va male nella prima unità di tempo diventa medio ancora vendibile ma bisogna venderlo subito perché all'unità successiva invece viene perso arrivano ovviamente degli ordini che possono richiedere diverse unità di cibo quando arriva un ordine dobbiamo per forza star lì dietro e se non riusciamo ad arrivare alla quota richiesta paghiamo una penale di tre unità di denaro gli ordini non sono noti a priori bene come possiamo apprendere questo problema qua è un problema decisionale un problema di gestione che potrebbe capitare in versione più complessa all'interno di un'azienda dove ci sono dei costi per tenere la roba in magazzino e gli ordini vanno fatti con un qualche criterio gli ordini di stocking per esempio come facciamo a prenderlo e a farlo entrare nel framework dell'apprendimento con rinforzo beh i passi sono le opportunità che abbiamo di produrre ok possono essere giorni possono essere settimane quello che ha senso nel nostro sistema l'azione in questo problema semplicissimo è semplicemente decidere di produrre oppure decidere di non produrre lo stato questa è probabilmente la parte più complicata in questo caso in questo problema molto semplice è lo stato dell'inventario cioè quanta roba abbiamo in magazzino e quali unità di cibo sono a metà per esempio stanno per andare a male più il tempo corrente per come è stato formulato questo problema sapere a che spasso siamo importante bene userò questa rappresentazione qua questo è lo stato del magazzino qui abbiamo quanto c'è all'inizio suppongo per fare un esempio che ci sia una unità di cibo dobbiamo decidere in due passi se produrre o meno dopo due passi c'è un ordine di due mele ok cosa ci convenga fare in questo caso è relativamente semplice basta che riusciamo a produrre basta riuscire a produrre un'altra unità e arriviamo comunque a e arriviamo a starci dietro ok bisogna stare attenti però al fatto che il cibo possa andare a male come facciamo ad andare a determinare una policy ottima partiamo da una cosa proprio brutale qui abbiamo una scelta binaria possiamo produrre o non produrre qua abbiamo un'altra scelta binaria possiamo produrre o non produrre e possiamo numerarle tutte facciamo tutte le possibili combinazioni siamo all'inizio abbiamo la nostra unità di cibo possiamo all'insù vuol dire che produco all'ingiù vuol dire che sto fermo e non produco niente se produco spendo un po' di quattrini ma al giro dopo mi ritrovo con due mele con due mele sono in grado di far fronte a questo ordine se decido di produrre ancora sono già riuscito a fare ordine con le due mele che avevo ho speso qualcosina in più per la mela in più che ho prodotto termino con il magazzino che ha una unità di cibo anche ancora un'unità di cibo se al secondo passo non produco ovviamente non spendo e mi ritrovo con il magazzino vuoto se al primo passo invece non produco mi ritrovo con una mela sola ok? a questo punto sono fritto perché se decido di produrre la mela me la ritrovo al passo successivo però un ordine che mi richiede due mele con la mela che ho qua non riesco a far fronte quindi in ogni caso a questo passo sono costretto a pagare la penale se decido di produrre di nuovo il mio costo in questo passo qua sarà di quattro unità uno per la produzione e tre per la penale se decido invece di non produrre semplicemente pago la penale di tre unità ok? queste sono le possibili combinazioni adesso cosa posso fare? posso ragionare all'indietro se guardo solo l'ultimo passo posso abbastanza facilmente andare a determinare qual è la qualità delle mie azioni si chiama si si chiama qualità delle azioni si indica con la Q è facile andare a determinare perché in questo caso è semplicemente la reward che ho ottenuto qual è la qualità di quest'azione qua? è facile meno uno è il costo è il costo che ho dovuto pagare la qualità di quest'azione zero la qualità di quest'azione meno 4 la qualità di questa meno 3 torna adesso a me interessa trovare la scelta migliore quindi se io mi ritrovo in questa situazione qui con questo stato di magazzino a questo istante di tempo cosa mi converrà a fare? mi converrà a prendere la scelta che ha la qualità più alta delle due quindi quella con zero allora posso andare a calcolare queste qualità a ottenere un nuovo numero che è il miglior outcome possibile che posso avere da ogni passo da ogni nodo diciamo di questo disegno che ho fatto questo si chiama il valore di un certo di un certo stato di un certo nodo di un certo stato questo nodo qua ha valore zero perché la migliore cosa la migliore outcome che posso avere è spendere zero questo nodo qua ha valore questo stato ha valore meno 3 perché la migliore scelta che posso fare mi porta ad avere un outcome finale di meno 3 ok? questi due valori mi dicono cosa succede da qui in poi posso ripetere il processo al passo indietro posso calcolare la qualità di questa azione che sarà meno 1 perché pago questo più il valore di questo nodo e la qualità di questa azione che è 0 più il valore di questo nodo e posso a mia volta calcolare il valore anche di questo nodo qui posso andare lì indietro finché voglio ok? una volta che ho calcolato tutte queste benedette Q per andare a trovare la scelta migliore mi basta seguire sempre e pedissequamente la Q più alta sono al primo nodo devo prendere la Q più alta sono al secondo nodo chi se ne frega devo prendere la Q più alta in questo caso è 0 perché l'altra è negativa ok? quindi se riesco a fare questo calcolo di queste qualità mi ritrovo con una strategia semplicissima con una policy se riesco a calcolare le mie Q per ogni possibile azione e per ogni possibile stato devo semplicemente sempre seguire la Q più alta ok? in pratica numerare come abbiamo fatto non è fattibile non scala appena il problema diventa complicato diventiamo scemi è impossibile andare a farlo letteralmente però possiamo girarci un po' intorno e qui il contributo ci viene dalla matematica ogni si chiama questa associazione tra gli stati e le azioni e la qualità si chiama Q-function ogni Q-function ottima cioè che definisce una politica ottima per il mio agente deve per forza soddisfare una relazione matematica questa è l'unica formula che metto e piuttosta di quella che ha messo Alessio però spero di avervi dato gli elementi per almeno vagamente capirla l'idea è che la qualità di una certa azione in un certo stato è data dalla ricompensa che ottengo facendo quell'azione in quello stato più quello che avevamo detto che avevamo definito come valore dello stato successivo praticamente guardo lo stato successivo questa notazione qua e considero la migliore azione che posso fare considero la qualità della migliore azione che posso fare nello stato successivo è esattamente il calcolo che abbiamo fatto qui niente di più niente di meno solo che l'abbiamo tradotto in un'equazione di solito se l'andate a cercare su wikipedia o in qualche altro libro di testo questa cosa ve la ritrovate con un gamma qua davanti che è un numero viene introdotto un numero un numero minore di 1 viene introdotto per gestire il fatto che l'orizzonte potrebbe non essere finito noi avevamo solo due passi in cui dovevamo decidere in pratica un inventario lo deve gestire da adesso fino si spera un bel po' di anni si spera che l'azienda sopravviva ok perché è utile avere questa equazione perché a questo punto possiamo invece che andare a numerare partire con delle q scelte completamente a caso il nostro agente all'inizio cosa farà seguirà queste q a caso e quindi sceglie a caso però piano piano comincia a osservare le ricompense e aggiusta le q in modo da far tornare questa equazione noi sappiamo che quando questa equazione torna è soddisfatta allora la nostra policy è ottima ok ci dà un modo matematico per andare a trovare una policy ottima facendo esplorazione a raglio osservando le ricompense e applicando qualche algoritmo di attivitazione per esempio anche uno di quelli che si usano per i metodi supervisionati per andare a correggere queste q bene aver deciso di invece che numerare campionare cioè esplorare a caso lo spazio dei possibili stati ci dà anche un altro vantaggio gigantesco siccome campioniamo inerentemente ci siamo diventati in grado di gestire situazioni incerte cioè può essere che gli ordini per esempio non siano più gli stessi non siano più fissi come nell'esempio che ho fatto potrebbero variare come succede tra l'altro nel mondo reale sono incerti gli ordini non c'è problema il nostro algoritmo è in grado di tenere conto naturalmente anche di quell'incertezza piano piano la impara se c'è un pattern piano piano lo impara se c'è un processo che ha generato quegli ordini allora piano piano lo impara e lo stesso modo potete immaginare si potrebbe pensare di avere un sistema basato su apprendimento con rinforzo che controlli i parametri di una macchina automatica oppure che si adatti a una fornitura di elettricità incerta poter gestire l'incertezza è veramente una cosa fortissima dove entra il deep learning finora non l'ho detto deep learning entra perché in pratica definire questa q function come una tabella che per ogni stato e per ogni azione ci dice la qualità ha dei problemi se gli stati sono tanti se le azioni sono tanti questa cosa qui esplode non riusciamo più a gestirla nel deep q learning o nel deep reinforcement learning l'idea generalmente è di sostituire una specifica della policy in forma di tabella con invece una rete neurale ci sono tanti modi per farlo e qui non sto a cervellare mi interessa solo che capiate l'idea di base di specificare queste qualità delle variazioni ok se si è capito vagamente questo nocciolo qui l'idea di valutare la qualità delle azioni e il fatto che a partire da quell'equazione posso andare a trovare una policy ottima possiamo vedere un po' possiamo adesso discutere un pochettino gli aspetti positivi gli aspetti negativi e gli aspetti scomodi del reinforcement learning due cose che il reinforcement learning ha in comune con gli umani è che non ha bisogno di generare delle etichette noi siamo in grado di imparare anche se le etichette non le abbiamo oddio se le abbiamo non ci guasta però siamo in grado di imparare anche se non ce le abbiamo possiamo sperimentare si può adattare a condizioni dinamiche questa è una cosa che in certi contesti per esempio di controllo è preziosissima robot per esempio che vengono danneggiati se hanno un sistema di apprendimento con rinforzo se avessero un sistema di apprendimento con rinforzo potrebbero piano piano imparare come compensare il danno a differenza degli esseri umani però una macchina può dedicare all'apprendimento una quantità di risorse computazionali veramente mostruosa si può spendere un data center intero per cercare di andare ad apprendere una policy ottima si possono usare quantità di dati enormi e un sistema di questo tipo può accumulare dati per un periodo di tempo che è più lungo della vita di un essere umano e questi sono tutti vantaggi che almeno potenzialmente sono veramente molto grandi il mio favorito però è un'altra cosa e cioè che è relativamente semplice da realizzare un sistema di questo tipo almeno concettualmente l'idea è che se abbiamo un qualche tipo di ambiente con cui possiamo far giocare il nostro sistema allora possiamo pensare di costruire un sistema di apprendimento con rinforzo non sarà facile costruirlo però il requisito fondamentale è semplicemente avere un ambiente con cui possiamo farlo giocare ok ci sono degli aspetti scomodi a cui faremo molta attenzione uno per esempio è che i sistemi di apprendimento con rinforzo per loro natura hanno bisogno di sperimentare il fatto che abbiano bisogno di sperimentare come nell'esempio del bambino di mio figlio vuol dire che faranno delle cavolate faranno degli errori e quindi bisogna essere pronti a aspettarsi che questi facciano degli errori non è un caso che praticamente tutte le storie di successo che vi ho fatto vedere sono in contesti o completamente artificiali come quello dei videogiochi oppure in contesti dove simulare è fattibile guida automatica oppure in contesti estremamente controllati robots in laboratori bene non è un caso perché questi sistemi sbagliano e sbagliano parecchio secondo se vogliamo che si adattino devono poter continuare a esplorare nel tempo non basta che lo facciano all'inizio devono fissare il proprio comportamento ogni tanto devono provare e quindi ogni tanto devono poter sbagliare la seconda cosa è che pur se l'unica cosa che ci serve l'unico requisito fondamentale è avere un ambiente con cui il sistema può giocare un po' di conoscenza del problema per impostare il sistema di apprendimento con rinforza importante per esempio scegliere cosa dargli da mangiare che descrizione dello stato usare quali elementi dello stato è importantissimo perché definisce che tipo di polisi si può imparare in alcuni casi può essere praticamente impossibile non so se ci vuole se bisogna tenere conto di moltissima storia passata per poter capire che decisione fare adesso diventa complesso immaginate di decisioni di politica internazionale vanno prese tenendo conto di secoli di storia passata dell'essere umani ok quindi ci sono dei caveat a cui stare attenti e ci sono anche dei drawback secchi uno di questi è la necessità di tempi di training molto molto grandi Alphago che pure ha funzionato bene ha giocato per l'equivalente di milioni di partite a go che un essere umano non potrebbe permettersi questi sistemi lo possono fare perché possono simulare una partita per esempio o perché possono eseguire in parallelo ma non in tutti i contesti siamo in grado di accettare questi tempi di training molto alti seconda cosa non richiedono una supervisione ma vi ricordate per struttura possono fare degli errori e quindi siamo proprio sicuri di poterli mettere in campo in un contesto industriale andranno come minimo un po' sorvegliati altro problema che hanno e che condividono con molti sistemi di machine learning è quello di essere opachi specialmente i casi che si basano su deep learning non sono facilmente interpretabili da un essere umano e ultima cosa non necessariamente questi sistemi si combinano facilmente con altri sistemi di supporto alle decisioni sono limitazioni sono anche spunti per ricerca futura in particolare l'ultimo è quello che mi ha attirato verso reinforcement learning ed è la cosa che mi interessa di più fine presentazione se avete domande fatele tranquillamente sì sì intanto mi è caduta la connessione per un attimo quindi purtroppo l'ultima parte della tua presentazione non l'ho vista quando dici che devono sbagliare per forza che ovviamente è una cosa intrinseca e stavo pensando a un'applicazione di tipo automotivo ovviamente non sul lato visione che è quello che ci ha fatto vedere Samuele prima ma avrebbe senso il reinforcement dovrebbe essere naturale ma avrebbe senso infilare la gente dentro un simulatore dell'ambiente stradale e usare quello come rinforzo senza dover per forza aspettare i crash beh se vuoi fare apprendimento con rinforzo deve essere il sistema che prende la decisione quello che tu puoi fare è puoi usare dei dati supervisionati per cercare di fare un bootstrapping del sistema si può addirittura fare un giochetto simile a quello che ha fatto vedere Samuele non lo so i ricercatori dell'NVIDIA hanno fatto andare una macchina con tre telecamere una che puntava dritto e altre due che puntavano sugli angoli e questo è interessante perché per quella che è dritto decidi che l'azione è buona c'era un guidatore sulla macchina ok serviva a raccogliere dati quest'auto per la telecamera dritta rispetto alla telecamera dritta l'azione corretta è quella che decide il guidatore rispetto alle telecamere storte per ottenere l'azione corretta basta che prendi quello che ha fatto il guidatore e lo alteri un po' compensandola il posizionamento della telecamera e questo comunque ti serve fare bootstrapping poi per fare il vero apprendimento con rinforzo deve essere il sistema che prende la decisione lì non ci scappi ok ok grazie quello che scusate mi sentite? sì sì dicevo quello che per esempio viene in mente legato a questo che più o meno ho visto in alcuni talk raccontato da chi lavora sull'AI di Tesla che usano loro un po' ibrido fra queste due cose è quello di raccogliere i dati quando il guidatore interviene a correggere la decisione dell'autopilot in qualche modo simulano l'errore nel senso che non lo portano fino in fondo ma lì vuol dire che qualcosa è sbagliato e quindi quei dati li raccolgono e con quello imparano ok ho capito grazie Michele sono ciao sono Paolo Ciaccia ciao riesci a sentirmi ciao ho una domanda una curiosità più che altra volevo sapere se esistono applicazioni di possiamo chiamarle di interazione sociale basate su reinforcement learning in altri termini quello che normalmente viene inteso come ambiente potrebbe essere un altro agente in grado di dare reward ma a sua volta che deve imparare a trovare la sua policy ottima sto pensando a come dire imparare a rapportarsi a un'altra persona che ti può dire se le cose che fai vanno bene o vanno male lo sa dire quindi ti può dare un reward sulle azioni che fai ma a sua volta è parte attiva cioè non è un ambiente statico ma è qualcosa che a sua volta deve imparare qui c'è scritto un campo che non è quello su cui ne so di più quindi faccio fatica a dirti dovrei guardarci non mi stupirebbe se qualcuno qualcosa del genere si è provato una cosa che invece mi ricordo distintamente c'è stata un certo punto una notizia di macchine che cominciavano e si erano inventate un linguaggio avevano imparato a parlare tra di loro questo è quello che è successo a facebook quando ha fatto ha messo due sistemi di reinforcement effettivamente hanno trovato un modo di comunicare che non ha assolutamente senso per un essere umano però come spesso succede nella notizia di AI devi prendere quello che è scritto nell'intestazione e neanche applicare un coefficiente di 0,1 devi praticamente distruggere e cercare di capire che cosa è successo veramente lì in quel caso era successo che gli era stato detto solo di accordarsi non era stato dato nessun prior per indicare che il modo di fare dovesse essere comprensibile infatti non l'è stato ok immagino che dipenda molto dalla politica di reward appunto esatto grazie quando hanno fatto la finale del go con l'isidol in effetti l'algoritmo aveva appreso delle mosse che non erano affatto diciamo mosse classiche da diciamo da essere umano che gioca tanto è vero che tutti quanti pensavano fossero mosse sbagliate ma che poi hanno portato alla vittoria quindi in effetti diciamo non necessariamente poi vengono prese vengono costruite delle la conoscenza che abbiamo noi su un determinato gioco quindi in effetti quello che dice anche Michele sui linguaggi possono diciamo costruire delle mosse delle azioni delle policy che sono diverse insomma da quelle che anche che hanno osservato probabilmente perfetto io non so se c'è ancora qualche nostro collega che possono creare cose nuove è la cosa più ok io non so se c'è ancora qualche nostro giurista che ha sopportato fino adesso però visto che fondamentalmente quello che succede dipende dalla politica di reward che è una cosa esterna non sarebbe un modo per insegnargli a comportarsi bene allora sì ma lo devi stare attento perché Fattero Lec ha trovato un gatto se qualcun altro è ancora lì che potrebbe partecipare ah no forse no io penso di sì ti ho stanato Giovanni no no certo grazie no no penso di sì infatti c'è c'è anche chi ci ha pensato bisogna poi vedere come insomma far interagire le indicazioni normative esplicite quelle invece che si apprendono con le con le sanzioni fondamentalmente o con gli incentivi quindi il mio ragionamento sarebbe ovviamente per apprendimento supervisionato è molto difficile far imparare a comportarsi bene perché la quantità di comportamenti leciti è enorme no mentre in questo modo ma è proprio buttata lì è una cosa sparata giusto perché sono in un ambiente informale posso non vergognarvi di quello che dico mi veniva da no sicuramente una prospettiva sicuramente sicuramente interessante io mi chiedevo una cosa però sempre sul fronte più giuridico ed etico nel caso del commercio elettronico ad esempio nel caso della pubblicità mirata cioè si dice che il sistema apprende ad inviare messaggi pubblicitari che hanno maggiormente effetto rispetto a particolari categorie di utenti oppure che invia messaggi che siano più engaging rispetto all'esigenza di trattenere le persone sulle piattaforme qui siamo nel campo del che tipo di learning siamo nel campo del rinforzo oppure siamo in un altro in un altro settore non so se sapete che tecnologie vengono usate a questo fine allora qui di nuovo caschi su un settore che non è quello di cui mi occupo di più però quello che vi posso assicurare è che il fatto che sistemi come facebook o molti social network abbiano sia la possibilità di visualizzare i contenuti sia la possibilità di ottenere facilmente delle reward per esempio in termini di like è un setup perfetto per fare dei reinforcement learning non vi so dire non sono al corrente di approcci che effettivamente lo facciano però so che diversi ti stanno pensando come minimo sì comunque in diversi settori si utilizzano approcci misti in cui si mischiano un po' di unsupervised supervised e anche reinforcement learning per cercare di arrivare poi all'obiettivo nel modo migliore quindi sicuramente anche la parte supervised lì c'è perché fondamentalmente quello che il tuo scopo finale è quello di massimizzare le vendite per cui fondamentalmente nel momento in cui le tue etichette quindi quello che vuoi imparare sono le vendite definisci lo stato come la tipologia della promozione che stai facendo quindi che cosa stai facendo a vedere il prezzo o il tipo di esposizione e quant'altro e poi riesci ad imparare qual è quella funzione che ti approssima il comportamento dello shopper al vedere quella promozione quindi lo shopper sarebbe il trainer diciamo del sistema in qualche modo se lo vediamo con un caso di supervised learning sì se invece qui puoi vedere se vai di supervised puoi provare a vedere cosa fa lo shopper costruisci un dataset se vai di unsupervised puoi provare a usare delle tecniche per trovare dei pattern in quello che fa che lo shopper prende non so frequent set mining è una forma di unsupervised learning trovare i set più frequenti e invece in apprendimento con rinforzo per te lo shopper diventerebbe l'ambiente in base in base a quello che fa vedere sugli scaffali e vedi se compra o se non compra quella diventa la ricompensa ma perché nel nostro ambiente si discutono molto si discute molto di queste modalità dell'impatto giuridico di queste modalità del commercio quindi sarebbe interessante sapere come effettivamente vengono che tecnologie vengono utilizzate a questo fine e che dinamiche si mettono in atto Giovanni scusa Paolo Ciaccia sempre ci sono anche altre tecniche che non sono propriamente basate sul learning che sono quelle che vanno sotto il nome di collaborative filtering adottate storicamente in tutti i sistemi di raccomandazione in cui in qualche modo si fanno raccomandazioni sulla base di similarità calcolate nel comportamento di diversi utenti o di diversi prodotti e in questo caso quindi essenzialmente fai un'analisi riducendo applicando anche tecniche di riduzione della dimensionalità di correlazione tra i comportamenti di diversi utenti fondamentalmente quindi l'idea è che se io e te abbiamo comprato delle cose in comune abbiamo insomma apparteniamo più o meno allo stesso pattern tu hai comprato a te piace non so il nuovo televisore 4k mi arriva anche a me una raccomandazione di quel tipo per semplificare molto personalmente la cosa ok poi questo si combina con tecniche di learning propriamente dette insomma ok ci sono analoghi aggiungere una cosa microscopica è un po' quello che ho detto all'inizio Giovanni dato il problema reale gli si butta addosso veramente di tutto soprattutto se ci sono tanti soldi in gioco grazie e nonostante molta dell'enfasi attuale sia sulla parola intelligenza artificiale come ha detto perfettamente Paolo che ovviamente studia queste cose da molto tempo ci sono metodi che magari adesso non si dovrebbero chiamare intelligenza artificiale ma che poi mirano lo stesso scopo e in realtà ne hanno fatto forse anche un po' le basi di questa cosa perché si possono per esempio applicare prima e poi aggiungere altre tecniche e così via Sì quindi la parola sulla sulla questione della AI non AI cioè personalmente l'etichetta la presa non con un filo di sale ma presa proprio molto 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 in maniera molto rilassata non fidatevi di di chi ti usa cioè non lo so dalla mia esperienza è facile abusare la parola AI e ci sono molte tecniche di AI che in realtà esistono da tantissimi anni con nomi diversi il problema è capire i concetti più che capire più che usare le diche che usare una certa buzzword sicuramente però scusa sono Daniele Vigo adesso la il brand AI tira molto per cui di fatto anche molto più di ottimizzazione Daniele ah dirlo a me Iva hanno vinto come dire l'ostruzione culturale rispetto a definirsi AI anzi sono in realtà bisogna bisogna essere aperti e sapere che sono metodologie che vanno utilizzate conosciute perché poi rappresentano delle ottime opportunità insomma anche per chi si occupa di metodi se volete tradizionali più strutturati poter utilizzare l'intelligenza artificiale o comunque in generale le tecniche come abbiamo parlato i colleghi fino adesso sicuramente rappresentano opportunità nuove per ripensare molti paradigmi anche di risoluzione eccetera quindi hanno delle grossissime opportunità e quindi anche come dire discipline diverse insomma comunque che appartengono ad ambiti diversi più strutturati storicamente più strutturati in realtà adesso vedono con molto interesse l'ibridazione con tecniche differenti scusate mi sentite? Sì con la filosofia del diritto faccio una domanda io non non mi intendo molto molto interessante tutto questo sto imparando però faccio una domanda che è connessa con un po' l'idea che la domanda che è stata posta prima cioè con questo metodo di apprendimento per rinforzo è possibile insegnare il comportamento corretto insegnare a comportarsi bene sulla base di una norma mi viene un dubbio cioè un dubbio che peraltro è un dubbio classico in filosofia del diritto cioè se si possa insegnare una norma attraverso così l'apprendimento per sanzioni il dubbio è questo cioè come possiamo essere sicuri che la macchina come dire induca la regola che noi vogliamo che capisca sulla base degli input dei cosiddetti no che noi le diciamo questo è un problema non so se è stato posto cioè il problema della macchina che si forma nel suo linguaggio può riverberare con conseguenze forse ancora più drammatiche nella macchina che si forma la sua norma o no è soltanto un dubbio il tema è delicatissimo e vi dico sinceramente merita un secondo me un caffè a parte l'aspetto è etico se vuoi delle jane qui ci sono anche però due connotazioni che si possono anche accennare adesso secondo me cioè senza stare ad aprire il vaso di Pandora dell'etica che io sarei ben felice di aprire ma non mi sento esperto abbastanza per farlo le due che mi vengono in mente sono uno l'aspetto della generalizzazione cioè vuoi vedere se in contesti diversi da quelli su cui l'hai addestrata ma in cui tu sei in grado di prevedere quale sia il comportamento corretto il sistema si comporta in modo corretto questo chiaramente non ti dà la garanzia che abbia imparato la cosa giusta però se vedi che si comporta in modo consistente un po' di confidenza te la dà se vuoi dal punto di vista statistico l'altro problema invece grave è come fai ad accertarti che abbia imparato qualcosa e qui diventa difficile perché in particolare i metodi per esempio di deep learning sono davvero molto opachi non sono non è che li puoi aprire la testa e vedere che regole hanno costruito quindi c'è un problema di spiegazione proprio del sistema e questo è un'altra roba che merita un caffè a sé stante ed è tostissimo è tostissimo interessantissimo ed è un problema caldissimo perché grazie sì scusate voglio fare solo due cose la seconda è la più spiacevole perché a un certo punto devo dire che il nostro salotto è aperitivo è terminato perché altrimenti andiamo veramente troppo in là la prima è che c'è un primo prerequisito che abbiamo la necessità di affrontare nel prossimo caffè che sarà dedicato magari a questo è che sicuramente tutta la parte tecnologica e scientifica parla pensando in maniera lievemente diversa da quella diciamo così più filosofica e quindi per noi ci sono implicitamente delle garanzie sempre un po' maggiori perché sappiamo che alla fine le cose che fanno quello che noi gli diciamo sono macchine mentre l'imponderabilità degli esseri umani che è implicita nel ragionamento filosofico probabilmente rende molto difficile capire che per noi queste sono quasi assunzioni di base è vero che noi facciamo macchine complicate che hanno comportamenti a volte complessi ma comunque sono macchine per cui per noi quando parliamo di generalizzazione abbiamo in testa un concetto abbastanza preciso no Samuele mentre probabilmente per un nostro collega filosofo il problema è più grande cioè si può veramente insegnare con solo i no diventa molto più grande perché un essere umano ha una varietà di comportamenti e complessità interne molto più grande e quindi mi piacerebbe scusa mi trovi si finita concordo con la tua idea di dedicare magari più di un salotto di questo tipo a parlarne anche per costruire magari un linguaggio comune che potrebbe essere il primo più difficile più difficile problema mi piacerebbe che fosse così ben definito cosa intendiamo per generalizzazione però insomma era per dire che se ci sono dei colleghi invece matematici o comunque interessati a studiare l'aspetto teorico di cosa vuol dire imparare a generalizzare secondo me lì c'è tanto da fare un altro sicuramente metteranno delle caratteristiche di liscezza da qualche parte che vuol dire che generalizza bene sono d'accordo capisci appunto ecco se la prendi da lì e pensa a cosa potrebbe pensare un nostro collega filosofo capisci che c'è un ponte infinito da costruire in questo senso affascinantissimo per cui altro che un caffè benissimo mi sembra che sia un'ottima idea dedicare a questo tema dell'apprendimento di norme in futuro magari una Giovanni sì 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 facciamolo assolutamente bravo Giovanni concordo pienamente questa è una ti stai rendendo volontario con l'aiuto di Corrado proviamo a pensare in dialogo con voi proviamo a pensare un evento dedicato a questo tema se non è ancora finito posso chiedere una cosa rapida a Samuele Salti sì certo sono qua grazie il discorso che hai fatto delle analisi di immagini è veramente molto interessante però mi chiedeva una cosa il riconoscimento facciale quindi riconoscere delle fotografie delle cose diciamo dell'uomo non dovrebbe essere qualche cosa che ha a che fare con qualcosa di più rispetto proprio al riconoscimento di singole parti di immagine perché quello che si riconosce è l'espressione che prescinde anche da come uno ha certi tipi di parti di immagine l'espressione è qualcosa di più qualcosa che ha a che fare con l'empatia non lo so c'è qualcosa di più rispetto al riconoscimento di pezzettini di immagine oppure no come ha detto Michele non mi occupo di riconoscimento di espressioni da volti quindi potrei dire anche delle cose molto stupide visto che siamo a un aperitivo ci provo lo stesso e quindi non conosco la letteratura mi verrebbe da dire che però tristemente sia semplicemente un problema di dare tanti esempi di espressioni forse si può dire meglio così dipende da quanto vogliamo essere raffinati forse è questo quanto vogliamo veramente catturare dello stato interno di quella persona attraverso l'immagine quanti classi vuoi dare un certificatore sì ma a un certo punto tante espressioni della stessa persona in modo che ci sia tutto un insieme di espressioni non soltanto un'immagine insomma sì sì però ecco cioè quanto vogliamo essere raffinati in questa descrizione non so come dire cioè mi ricordo aver partecipato una volta a un test credo di psicologia ma se ci sono delle psicologie non si offendano in cui guardando soltanto c'erano soltanto immagini ritagli di giornale di occhi di persone bisognava dire una fra quattro possibili stati d'animo di quella persona e credo fosse un test forse non mi ricordo adesso per testare qualcosa vorrei dire legato all'asperger ma potrei sbagliare ecco secondo me lì non ce la fa cioè l'apprendimento supervisionato è basso lì non come dire non diventa più un problema soltanto di che valoriano i pixel perché mi verrebbe da dire che è una sfumatura tale che non so bene cosa cos'altro agisca lo dimostra anche il fatto che le nostre risposte sono così diverse quindi c'è la risposta giusta ma convincere un altro che quella era la risposta giusta non era per niente facile i miei colleghi che avevano fatto il test con me continuavano a pensare che secondo loro quella persona era arrabbiata anche se secondo me invece era triste per me era ovvio quindi forse c'è anche qualcos'altro dai chiudiamo con questa nota di speranza non basta potrebbe entrare anche nella macchina delle verità un concetto del genere questo è ancora un altro passo grazie 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 ci sono tantissimi spunti che possono nascere da questo ma capisco che il tempo è quasi finito mi tocca ti chiedo scusa Giorgio mi tocca fare una chiusa a questo punto perché sono molto molto contento sto leggendo anche quello che lasciano in chat le persone che se ne vanno mi sembra che cominciamo a raggiungere anche se a piccoli passi lo scopo del centro in generale poi anche di questi seminari che è quello di metterci insieme e di stimolarci l'uno con l'altro io spero di di avere presto notizia di magnifiche collaborazioni nate intorno a questi aperitivi a questo punto sì peraltro se posso se avete in qualche modo dei suggerimenti sull'organizzazione di di prossimi aperitivi su delle tematiche le più disparate possibili anzi le più diverse e da diciamo non soltanto area tecnologica assolutamente ma proprio diciamo spunti qualunque mandatemeli a me a Riccardo insomma in modo tale che possiamo provare ad organizzare veramente delle conversazioni interessanti e grazie veramente a tutti della partecipazione grazie Riccardo per per averlo organizzato prego chiudi pure tu no 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 sono 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 d'accordissimo con te cercheremo sempre di tenerli sul leggero e informale comunque per cui mandate tutti gli spunti e aspettatevi che poi magari qualcuno mi faccia di via dei consigli tipo ma includiamo anche questo in modo che non sia troppo specialistico che è un po' quello che secondo me dobbiamo cercare di fare per avere ancora centinaia di colleghi che si collegano che secondo me è la cosa più interessante che possiamo fare con queste iniziative poi ce ne saranno altre ovviamente direi buona serata a tutti a questo punto è stato un buon risultato Riccardo grazie mille grazie a tutti grazie grazie a tutti ciao 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 Michele ciao 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 a tutti